la giraffa con Sarban ancora due cavalli da assegnare Quasimodo De Gallura e Renalgios le 18 e 3 minuti piazza del campo 29 giugno tratta per la situazione dei cavalli per la prossima carriera del 2 di luglio Sbaraldo Lunese Civetta Porto alla Beonda solo 2-2 Selva Caridale Marchesana Torre Suree Bruco Sarbana Ciraffa Tornasol Tartuca e Mississipi Pantera da assegnare Reinaldos e Quasimodo De Gallura 9 Quasimodo De Gallura Vediamo quale contrada va in sorte Tornasol Tartuca Grazie a tutti Qu'è il crash la對對a Quasi miri Quasi miri Quasi miri Quasi mä Grazie per la visione!